E' sempre una partita un po' particolare, questo è evidente, è anche evidente che il loro valore non è quello di essere a zero vittorie dopo dieci partite, in tutta onestà assolutamente no, è una cosa molto inaspettata che dipende da tanti motivi e sfido chiunque a pensare che a questo punto non sarebbero stati così indietro, insomma, quindi mi sembra che stiamo facendo anche molti sforzi per rimediare, è chiaro che la partita in sé noi abbiamo l'obbligo, la volontà e tutto quanto per vincere, poi insomma guardando il quadro invece da un po' più lontano, dispiace anche che una realtà campana comunque importante così sia in difficoltà dei risultati a questo momento, ecco perché insomma bisogna guardare un po' più in là del nostro naso, questo a prescindere ovviamente da cercare di fare l'impossibile per vincere la partita, questo è abbastanza evidente. Ha cambiato molto il roster rispetto a quello iniziale, dopo la fine del giro in andata diceva Antonello a Leona che noi potremmo, volendo, cambiare qualcosa. Ma spero per gli stessi motivi, perché loro stanno cambiando molto perché abbiamo imparato questa cosa l'altro giorno, perché sono in grandi difficoltà e quindi hanno dovuto cambiare molto. A me dispiace molto, faccio un piccolo inciso, che mi ha cambiato per primo l'allenatore, perché anche se Zale è un grande amico mio, se i risultati poi non sono cambiati tanto direi che forse non era proprio tutta colpa, però questa è una chiosa così personale. Ma il, ripeto, non abbiamo parlato un po' di questo, ma insomma al momento io penso numero uno che chi fa parte di questo roster qui, compresa quindi tutta la panchina, anche se magari ci si aspetta qualcosa di più, io penso che possa fare qualcosa di più sinceramente. E quindi mi auguro che lo possano dimostrare rapidamente. Poi, se non, poi le valutazioni, come ha già risposto Antonello a questo, le faremmo con, come dire, a mente lucida, con un po' di calma, sentendo insomma tutte le componenti a seconda anche di quello che, insomma di cosa vogliamo fare, di cosa abbiamo davanti. Adesso la deadline importante è quella della finalizzazione d'andata, questo mi sembra evidente, insomma, a quel punto lì poi insomma cerchiamo di capire che cosa, non è, come dire, non è né obbligatorio, chiaramente, anzi, né al momento indispensabile, onestamente, se fosse indispensabile sarei il primo a dire, guardate che serve assolutamente, poi tutti i allenatori vogliono avere la squadra più forte del mondo, insomma, però bisogna anche stare, come dire, ancorati alla realtà, tenere il profilo che c'eravamo preposti e prefissati all'inizio di stagione, riguardo obiettivi, riguardo a budget, riguardo, insomma, credo che, cioè, dobbiamo essere più realistici proprio, in questo momento qui, anche rispetto a quello che è il movimento in generale, la situazione generale economica che c'è, insomma, poi, come dire, poi andiamo a vedere, però, insomma, è anche giusto che ognuno, come dire, che veste i propri panni nella maniera, come dire, più orgogliosa e più, no, migliore possibile, però, devi sapere, quelli sono i propri panni, non è che possiamo improvvisamente pensare a qualcos'altro, per fortuna, fino adesso non abbiamo esigenze, rispetto a quello che dicevo prima, particolare, quindi vediamo, insomma. Corroppo, a mezzo della stagione abbiamo detto che in settimane evitata la preparazione non sarebbero possibili un alico, ecco, a dieci giornate dall'inizio del campionato, quella situazione si potrebbe metabolizzare per ritardo e poi, soprattutto, in base a un po' alle caratteristiche dei nostri giocatori, che cosa sarebbe voluto cambiare se non ci fosse stato un po' alle caratteristiche? Eh, beh, questa è una domanda chiaramente difficile, si possono solo fare delle ipotesi. Io credo che noi si sia comunque lavorato abbastanza bene per presentarci all'inizio del campionato nel migliore dei modi e quindi questo va dato atto anche ai miei collaboratori, perché da chi segue la parte atletica, noi facciamo la parte più tecnica, la parte sanitaria, insomma, come dire, dove l'obiettivo era quello di portarli a un buon livello senza combinare guai dal punto di vista fisico, perché poteva essere pericoloso questo, quindi, insomma, e poi siccome, come dicevi te all'inizio, siccome questo non doveva e non è mai stato, come dire, causa per alimentare alibi che non hanno senso di esistere, la cosa finiscerà, insomma, per quel che mi riguarda. Guardo solo al presente e quello che ho davanti da fare, basta. Noi facciamo il contrario, portiamola a casa qua, così risolviamo il problema, ma è un po' strano, perché chiaramente il fatto di avere una squadra con molti giocatori stranieri che magari in questo momento potrebbero avere un break per tornare a casa, perché sono qui tutti da agosto, insomma, da fine agosto, eccetera, potrebbe essere utile. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che siamo dei professionisti e quindi ci adeguiamo alle regole e il terzo aspetto, senza battere il ciglio, come dire, e il terzo aspetto è che hanno verificato proprio con dati al dati alla mano che è un periodo in cui la gente segue più volentieri la palacanestro, viene al palazzetto volentieri forse perché è un po' più a casa, ha i ragazzi più a casa, non sa cosa fare, non tutti vanno a sciare e quindi magari chi rimane ha più voglia di andare a vedere un evento sportivo complice l'assenza di eventi magari del calcio, chiaramente che è quello che cannibalizza un po' tutto e quindi se così è ben venga, come dire, l'Eurolega comincia il 2 gennaio, mi sembra, il prossimo girone, quindi anche loro hanno questa esigenza qua, in Spagna giocano a Natale, lo stesso dicasi per l'NBA, per noi siamo un po', è un piccolo sacrificio ma insomma, come dire, ne vale anche la pena se poi la risposta del pubblico è adeguata, va benissimo. Grazie a tutti.